Attenzione che si va, colpo di cannone sarà sparato dal sindaco Giuliano Pisapia, un cannone di pace però, un cannone di gioia che presta una Milano che va di corsa verso l'expo del prossimo anno che speriamo sia una bella occasione di incontro, di popoli, di nazioni, di festa, di sviluppo Forza Chiara, attacchetta l'assessore allo sport, l'assessore allo sport, Chiara mi scopri Chiara mi fatti battere da Antonio Augusto